Un momento di confronto pubblico tra sindaci, governo, attori dell'economia ed esperti sul ruolo dei comuni capoluogo nelle regioni del sud e nella costruzione di politica di sviluppo per il paese. Tutto questo è stato 109 città, un solo paese, i comuni capoluogo d'Italia, l'evento organizzato da Anci nel progetto Mediare che si è svolto a brindisi martedì 12 marzo. Le città capoluogo di provincia sono l'ossatura del sistema economico e sociale italiano, qui si concentrano servizi, attività e infrastrutture di cui beneficiano comunità territoriali più ampie. Nel corso degli anni i comuni capoluogo hanno ricevuto una crescente domanda di supporto anche da parte dei comuni limitrofi ricadenti nelle aree funzionali con i quali si sono moltiplicate esperienze di sinergia per l'erogazione di servizi e l'attuazione di investimenti. I sindaci non per protagonismo ma perché effettivamente siamo gli attori, gli interlocutori e i decisori più vicini alle comunità, quelli che conoscono meglio i territori, quelli che hanno una visione di sviluppo del proprio territorio e quindi credo i soggetti più legittimati a potersi esprimere in un discorso di prospettiva e di programmazione. Personalmente sono decisamente contraria all'autonomia differenziata, non la vedo assolutamente come una soluzione ai problemi che abbiamo. Questo Paese ci rimanda a una situazione completamente diseguale dove regna sovrana la sperequazione tra territori e una sperequazione storica che ci rinviene anche da meccanismi come la spesa storica che vanno prima superati. Quindi quando avremo un Paese davvero a condizioni uguali di accesso ai servizi per tutti i cittadini forse potremmo cominciare a parlare di regionalismo spinto avanzato e quindi di autonomia. Ma in questo momento mi sembra la peggior soluzione ai nostri problemi.